ciao a tutti e benvenuti nel mio canale io sono floriana e oggi faremo insieme lo spacchettamento del mio pacco che è appena arrivato ok iniziamo subito questa è la mia maglietta ufficiale degli spacchettamenti perché mi segue da più tempo già lo sa per chi è nuovo e non lo sai ogni volta che faccio lo spacchettamento indosso la maglietta con il logo allora la campagna appena iniziata è proprio oggi oggi ne ha che ne abbiamo quando abbiamo oggi ragazze 13 13 giugno e termina il 3 luglio quindi questo è il catalogo che è valido dal 13 minuti da oggi fino al 3 luglio in pratica questa è l'ultima volta che avremo il catalogo è suddiviso in due campagne quindi in due periodi per magari perché non capisce cosa significa in due campagne quindi in due periodi diviso campagna 8 campagna 9 ora in questo momento siamo nella campagna 9 quindi quindi inizia la campagna 9 quindi un periodo nuovo ed ecco mi dicevo l'ultima volta perché dalla campagna successiva la numero 10 avremo un unico catalogo quindi un unico catalogo e sarà tutto completamente in italiano perché questo è diviso in due lingue italia spagna e poi ci saranno altre novità che vi dirò naturalmente quando ci sarà la nuova campagna chi si vuole iscrivere in questa campagna ha lo sconto del 30 per cento uno sconto per i nuovi iscritti un poi può partecipare se lo desidera al programma di benvenuto che è molto conveniente perché e se si segue step dopo step si dicevano dei soldi proprio in regalo da spendere in prodotti quindi facendo i vostri acquisti nel vostro negozio online potete soffrire di questi sconti con grazie a questo programma a ricevere questi soldi e però per poterli spendere appunto in prodotti a vostro piacimento quindi se volete informazioni come sempre in infobox io lascio il link così potete se volete vi potete iscrivere tramite questo link per parte del mio team l'iscrizione non costa nulla non ci sono vincoli non ci sono kit da acquistare non c'è vincolo di se nessun genere se dopo l'iscrizione e oppure dopo aver fatto la primo ordine non ci piacciono i prodotti non vogliamo più ordinare per qualsiasi motivo non abbiamo nessun tipo di vincolo ok via all'attacco apriamo subito questo è il mio coltello ufficiale che utilizzo sempre per aprire il pacco para apriamo lo il pacco del desiderio lo chiamo perché perché mi piacciono troppo troppo mi piacciono i prodotti poi qui c'è anche una novità e quindi non vedo l'ora di vederla di presenza e l'ho vista online e l'ho vista tramite immagini eccetera ma non l'ho visto di presente e quindi qui c'è un caldo pazzesco siamo al punto dicevo all'inizio giugno ma c'è un caldo non si può stare c'è un'umidità una cappa incredibile invece ho sentito che invece in alt'italia in altre zone d'italia c'è il diluvio c'è freddo incredibile non si capisce niente va bene noi parliamo di cose divertenti parliamo dei nuovi arrivi di noi facchi queste cose belle poi ci sono anche dei regali che mi ha fatto l'azienda tante cose belle allora partiamo subito dagli integratori primo prodottino che mi esce questo l'integratore omega 3 6 e 9 è fantastico l'utilizzo da diversi mesi questo mi è stato anche ordinato e io ho notato innanzitutto che diciamo ho la crescita più veloce dei capelli non perdo capelli come prima li perdevo un po di più non ho avuto sempre ho avuto sempre tantissimi capelli un po li perdevo ce l'avete presente nei cambi di stagione ecco e invece grazie a questi prodotto qua no non li perdo inoltre mi protegge visto il sistema immunitario quindi previene malattie influenza e quant'altro e proprio fa bene a un tantissime cose anche fa bene a livello celebrale quindi alla memoria l'invecchiamento eccetera quindi questi vi li straconsiglio sono ottimi aspettate se si muove la telecamera ok allora poi altri prodotti e loro ho preso queste penso che sia la seconda volta questa maschera per il viso all'acido oliauronico per farvela vedere bene è così è una confezione piccolina da 50 ml ma dura tanto perché ne basta poco per fare questa maschera e poi di solito le maschere stanno una due volte a settimana e quindi queste è infatti in crema e cremosa e si assorbe facilmente e poi si asciuga subito e poi va naturalmente poi va sciacquata e lascia la pelle super super nutrita idratata e inoltre visto che c'è l'acido oliauronico è perfetto come anti age mettiamola qua perché questa è mia è caduta vabbè non fa nulla poi ho preso un nuovo prodotto che è una crema in questo in particolare questa è la crema per le mani sempre all'acido oliauronico perché è una linea particolarissima particolarissima perché abbiamo si riesca a leggere qualcosa qua la formula aspettate che ve lo leggo allora qua dice che aiuta quindi arricchite infatti di oli insomma in linee tante altre sostanze interessantissime ma oltre quello dice che lo scopo aiuta a mantenere l'equilibrio idrico della pelle delle mani lasciando la idratata e rivitalizzata tutto giorno e ne ho sentito parlare benissimo dalla mia collega che ne ha utilizzato infatti per questo l'ho presa poi mi ha detto che alla profumazione pazzesca perché hanno profumazione tipica dell'estate visto che contiene l'olio che adesso mi ricordo come si chiama l'olio di povero scrivo perché non mi ricordo in questo istante ed è mamma mia infatti bellissima ottima profumazione mettiamola subito in azione proviamola e si assorbe immediatamente come potete vedere profumo bellissimo ma che bello morbida quindi il fatto che si mantenga l'idratazione quindi è ottimo veramente l'acido euronico nella stessa linea c'è il la lozione per il corpo e il siero per il corpo io ho preso solo la crema poi prenderò le altre nel prossimo ordine e perché ho diverse creme per il corpo diverse lozioni per quindi quindi sto aspettando di finirne qualcuno per poi prendere l'altra quindi la prenderò però questa qui ci tenevo a provarla profumazione eccezionale e grazie a chi mi ha consigliato che mi segue grazie ciao le rosacchie a chi mi riferisco benissimo allora andiamo avanti vediamo cosa c'è un po' di un po di tutto in questo pacco perché in questa azienda ci sono dei detersivi dalle linee appunto per il corpo per la skin care profumi c'è di tutto proprio di tutto perché è una abbastanza interessante questa azienda proprio perché con un catalogo abbiamo passiamo da appunto detersivi i prodotti della casa e make up adesso abbiamo anche una nuova linea per l'auto e quindi adesso la vedremo perché mi sono arrivati quindi interessante veramente più va in continua crescita in ogni campagna o periodo ci sono sempre prodotti nuovi nuove e tante novità allora dia vabbè andiamo avanti si riesco a sganciare perché sono ben imballati innanzitutto l'azienda ci tene tanto a non consumare carta quindi mette poca carta proprio l'imballaggio l'indispensabile per far arrivare prodotti sani e salvi e quindi proprio pochissima utilizza pochissima carta o plastica allora è arrivato questo fantastico prodottino che sarebbe un tipo barra ombretto illuminante viso sicuro corpo ed è fantastico questo qui multi gold non è mio quindi non lo posso aprire però io ce l'ho poi ve lo faccio vedere ed è veramente bellissimo poi anche questo è un ombretto liquido glitterato colore argento mi è stato ordinato e quindi non ve lo posso far vedere dura tutto il giorno non si non si formano le pieghe quando si mette sull'occhio e ed è veramente fantastiche non si sposta più dopo averlo messo non se ne va più poi qua che cosa abbiamo delle matite occhi queste matita occhi color rame se sono presa per me perché era questo colore che mi attirava questo color rame e vediamo com'è color rame immagino che sia ecco così sullo marroncino va sul color rame quello questa poi qua c'è invece un'altra matita che è colore classica nera e quest'altra forse pure nera due matite classiche nere queste sono automatiche le matite che non occorre temperarle basta ruotarle ed esce fuori la lamina e che sono morbidissime si possono utilizzare addirittura anche come ombretto basta sfumarlo e diventa il matito ombretto oppure solo ombretto senza matita allora poi vi faccio vedere quelle due cose spero di non dimenticare quindi l'ombretto color gold e la matita color rame allora qui cosa abbiamo invece vedete proprio utilizza pochissima carta ma solo dove è necessario in questo caso come c'è un profumo e alla boccetta in vetro per proteggerlo l'azienda mette un pochino di cartone apposta come la confezione esterna il cartone proprio per questo motivo poi il resto dei prodotti arrivano senza cartone tipo le matite dove i trucchi detersivi non hanno un cartoncino esterno proprio perché ci tengono a risparmio per l'ambiente ecco non risparmio non risparmio ma per l'ambiente ok quindi questo profumo è da uomo numero uno che corrisponde a sauvage di dior quindi questo è da uomo quindi lo metto qua da parte questo anche non è un profumo che mi è stato ordinato poi mi sta arrivando già il prodotto nuovo la novità già l'ho vista allora queste sono salviette umidificanti struccanti io l'ho ripresa perché mi è piaciuto tantissimo mi sono piaciute tantissimo queste salviette quindi le ho volute riprendere la confezione sono carinissime poi molto comode da portare in borsetta per fare che sono fine settimana fuori casa sono perfette le stesse unificanti struccanti si ne ho presi due perché mi piacciono tantissimo e mettiamoli qua poi andiamo avanti cos'altro preso credevo di no l'ho preso il cielo per il corpo che bello quindi ho preso il del pericorpo abbinato alla crema delle mani ho convinta di non averlo preso eccolo qua della stessa linea d'acido iliavuronico wow l'ho preso mi sono convinta forse perché in me nella mia mente era quella di non prenderlo dicevo va bello prendo successivamente termino quello che ho invece l'ho preso e forse c'era un'offerta e l'ho preso va bene comunque in ogni caso farò lo stesso ragionamento che vi ho detto termino quello che ho poi apro questa bene bene poi abbiamo una linea per i capelli per la perdita dei capelli ed è questa maschera quindi questa è utilissima per chi ha problemi di perdita dei capelli anti caduta ok questa è nella stessa linea c'è lo shampoo è un attivatore eccolo qua questo qui è un attivatore che si mette nella cute si lascia agire poi va sciacquato ci sono tutte le istruzioni sia nel sito che dietro la confezione stessa quindi questi sono ottimi perché chi li ha utilizzati si è trovato bellissimo quindi di questa linea c'è shampoo maschera e questa questo protè olio anti caduta per i capelli sono prodotti naturali e quindi super top poi un altro prodotto con la quale non posso più fare a meno è questo qua questo è uno spray neutralizza gli odori non solo fa un profumo buonissimo questo quel profumo di fiori molto delicato ma bellissimo non solo profuma ma e neutralizza appunto gli odori se ci sono dei cattivi odori dopo aver cucinato e vogliamo eliminare quell'odore di frittura che ad esempio o abbiamo ma qualsiasi cosa che abbiamo preparato a casa nostra grazie a questo spruzziamo e la nostra e il nostro ambiente diventerà super profumato non solo profumato ma toglierà questi cattivi odori e questo qua e lo possiamo utilizzare anche sulle tende perché a base d'acqua sui materassi sui cuscini sulle lenzuola sui divani dappertutto perché essendo base d'acqua non crea problemi non macchia ed è ottimo anche se ci sono bambini o animali quindi questo straconsigliato provatelo che buonissimo ci sono i due profumazioni queste fiori e l'altro alla ciliegia che ho messo già nel carrello che devo fare il prossimo ordine no insomma lo ordinerò già è in prossimo programma ecco in programma questo che cos'è l'acqua micellare questa è l'acqua micellare della linea clean super idratante delicatissima io mi strucco con questa tranquillamente senza problemi non brucia assolutamente gli occhi è delicata e nello stesso tempo idrata super 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 questa questa invece non è mia è uno shampoo idratante anche questa all'acido euronico sono tanti prodotti con questo ingrediente interessantissimo l'acido euronico quindi questo è super 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 idratante questo momento da parte perché appunto non è mio poi poi abbiamo eccolo il fondotinta perché mio sta terminando forse già è terminato si è terminato perché stamattina ho utilizzato la crema colorata siccome mi trovo benissimo questo è come avere una seconda pelle non lo senti dura tutto il giorno ma non lo senti perché leggerissimo fantastico ho preso la profuma e la promozione la colorazione gold beige vediamo come tanto è il mio e lo devo utilizzare vi faccio vedere come si assorbe immediatamente e colora perfettamente guardate è un meraviglioso meraviglioso guardate ma un leggero effetto illuminante stupendo già è sparito e non si vede più nulla fantastico infatti questo lo compro lo ricompro perché mi trovo bene copre ma nello stesso tempo non è esagerato non crea un mascherone con sul viso è fatto benissimo poi due saponi per le mani si ordinano separatamente i dosatori ma io ce li ho e quindi non li ho ordinati sono super carinissime le confezioni coloratissime profumatissime tutto conissime questa la pesca e si sente tantissimo si sente anche dalla confezione chiusa e questo è al melone anguria sono bellissimi belli belli proprio belli non c'è altro da dire in questo idratano puliscono bene non lasciano la pelle secca bellissimi questa invece uno shampoo universale per tutti i tipi di capelli è una bella boccetta da 500 ml e quindi l'ho voluta prendere stavolta per cambiare per non prendere sempre lo stesso tipo di shampoo ho potuto prendere questo universale vediamo che profumo fa mmm che buono di frutta profumo di frutta bellissimo molto piacevole questo quindi è mio lo metto qua è mio lo metto sopra così questo non è mio lo metto giù ok poi andiamo avanti con i prodottini questo è un gel per i piatti detergente per i piatti super super concentrato che questo è 500 ml ma vale il doppio se non il triplo perché concentratissimo anche qui c'è lo spruzzino che io e quindi non l'ho ordinato e niente questo è fantastico questo è vegano un prodotto super vegano quindi anche in questo caso non creiamo problemi all'ambiente ora ci sono le novità i prodotti nuovi queste sono le novità allora questi li metto qui così faccio spazio allora le novità sono queste questi sono due omaggi fantastici che bello avere gli omaggi questi due regali guardate che carino le confezioni sono bellissime quindi questi sono due prodotti che servono come dicevo all'inizio per le automobile allora questo è un pulitore per gli insetti praticamente quando siamo in viaggio in macchina ci sono tutti quegli insetti che vanno sui vetri sui fari delle macchine quant'altro usiamo questo detergente lo spruzziamo in un attimo spariscono bellissimo questo quindi lo terrò in nell'automobile perfetto queste uno questo qui invece è sempre per l'automobile però è per la tappezzeria dell'auto quindi per pulire gli interni nell'automobile l'automobile si spruzza poi guardo naturalmente con calma le istruzioni applicare il prodotto sulle superficie con una spugna spazzolare insomma andare a sciacquare belli questi sono gli omaggi questi omaggi dovuti perché io faccio parte di un programma si chiama premium club quindi tutti quelli che fanno parte di questo programma premium club possono avere degli omaggi ogni tre periodi ogni tre periodi che si fanno ordini in maniera consecutiva l'azienda di fa delle dei regali ti regala dei prodotti nuovi delle novità e infatti ho ricevuto queste due novità quindi fatelo anche voi se volete ricevere sempre questi omaggi a parte oltre quello ci sono tantissimi vantaggi a far parte di questo programma e allora poi un'altra novità bellissime che ho preso sempre grazie a questo programma premium club è una nuova palette è uscita la palette di ombretti aspettiamo aspettate che c'è il lo scotch ecco qua l'ho aperta è bellissima è tutto in cartone con il disegno tipo van gogh troppo carina dello stesso genere ci sono altre palette quella del contouring e quindi è stata realizzata questa con dei colori stupendi secondo me guardate guardate sono stupendi facciamo subito uno swatch in diretta su rete quattro manca un dito guardate come scrive benissimo mamma mia scrive benissimo manca solamente questo colore qua che non l'ho fatto vedere marroncino bellissimo scrive che è una meraviglia guardate stupendo non vedo l'ora di provarlo adesso me li appoggio qua veloce ma guardate una sola passata ho fatto cioè ma una cosa incredibile ho fatto una sola passata scrive bellissimo bella bella che bello non vedo l'ora farò un video subito con questo dove mi truccherò con questa palette adesso vi come vi dicevo all'inizio vi faccio vedere il mio ombretto multigold perché l'altro non ve lo posso aprire perché non è il mio questo è mio già si vede che l'ho utilizzato più di una volta per farvi vedere come meraviglioso ecco questo è il colore è un dorato brillantinoso come dirvi lo metto qua guardate che meraviglia è bellissimo è in crema anche questo non lascia segni sulle pieghe colora che è una meraviglia dura tutto il giorno e si può utilizzare anche come illuminante così tata 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 bellissimo che questo ve lo consiglio adesso voglio provare invece la matita questa matita color rame è la prima volta che la prendo me che la ordino con la scusa vi faccio vedere come sono le nostre matite vedete sono così automatiche basta ruotare ed esce fuori la lamina allora quindi vediamo anche in questo caso la colorazione sono tutte tutta dipinta eccola qui sembra dal video di un marrone cioccolato però appunto è colore ruggine un po più chiaro del marrone è bellissima mamma mia che bella domani la utilizzerò insieme alla nuova palette e la farò vedere va bene spero che questo video vi sia piaciuto se è un pochino lungo 21 quasi 22 minuti scusate ma avevo tutte queste cose da mostrarvi questa è la campagna in corso iscrivetevi in info box trovate tutto chiedetemi informazioni sono felice di darvi ciao al prossimo video